Sei persone sono finite in manette nell'ambito di un'indagine della direzione antimafia di Trieste. L'accusa è quella di aver preso parte ad un'attività organizzata di traffico illecito di rifiuti a carattere transnazionale. Le indagini avviate con il sequestro di un capannone industriale stracolmo di rifiuti hanno visto l'impiego dei carabinieri di Gorizia, del ROS, dei funzionari del Gico di Trieste e dello Scico di Roma ed hanno portato alla luce lo smaltimento illecito di circa 4.500 tonnellate di rifiuti speciali, balle reggiate di rifiuti plastici provenienti da un impianto di recupero di una società di Belluno e da un'area dismessa ubicata in Slovenia. I rifiuti erano abbandonati in un capannone industriale a Mossa in provincia di Gorizia, proprietà di due società con sede nel capoluogo Isontino e a Napoli, adattato con un varco laterale creato appositamente per consentire gli scarichi abusivi in piena tranquillità. Il trasporto di rifiuti a Mossa avveniva grazie ad aziende di trasporto slovene compiacenti. L'utilizzo di un drone ha consentito di monitorare numerosi scarichi da parte degli indagati per lo più nelle prime ore della giornata. Agli indagati sono stati sequestrati preventivamente beni per complessivo un milione di euro. Indagati che una volta sequestrato il capannone di massa stavano cercando siti alternativi per continuare la propria attività illecita. Gli inquirenti che stanno effettuando perquisizioni ulteriori fra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Campania non nascondono la pericolosità della vicenda che collega le dinamiche criminali scoperte a quelle tipiche dell'area campana.